Ah, eh! La competenza presto affinerà le capacità con l'esperienza Dove sono andati i tempi di una volta per Giunone Quando ci voleva per fare il mestiere anche un po' di vocazione Una gamba qua, una gamba là, con fil di vino Quattro pensionati, mezzo avvelenati al tavolino Li troverai là col tempo che fa, estate e inverno Astra traccarnare, Astra maledire, le donne al tempo del governo Loro cercano la felicità dentro al bicchiere Per dimenticare di esser stati presi per il sedere Ci sarà allegria anche in agonia, colpino forte Porteranno sul viso l'ombra di un sorriso tra le braccia della morte Vecchio professore, cosa vai cercando in quel portone Forse quella che sola ti può dare una lezione Quella che di giorno chiami con disprezzo, specie di troia Quella che di notte stabilisce il prezzo alla tua gioia Tu la cercherai, tu la invocherai Più di una notte ti alzerai di sfatto rimandando tutto al ventisanti Quando incasserai, delapiderai mezza pensione Diecimila lire per sentirti dire Se ti inoltrerai lungo le calate dei vecchi moli In quell'aria spessa carica di sale con fiat di adocco Lì ci troverai ladri ed assassini e il tipo strano Quello che ha venduto per treminalire sua madre è un nano Se tu penserai e giudicherai da buon borghese Li condannerai a cinque mil anni più che le spese Ma se capirai, se li cercherai fino in fondo Se non sono agili, sono pur sempre figli vittime di questo mondo